Ciao ragazzi da Vittorio, anche nel mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, si sta parlando molto delle dichrazioni di Glitare, che ha detto che a gennaio la Lazio non comprerà nessuno, ma casomai cederà a quei giocatori che sono fuori dal progetto, Vedi Dormisi, Minala e magari anche Beriscia, ma non acquisterà nessuno e in molti, come nel mio canale Telegram, dicono ecco non c'è la mentale di vincere, non c'è la voglia di andare in Champions League, Lottito e Tare non vogliono portare la Lazio in Champions League. No, non è così e in questo video vi spiegherò il motivo di queste dichrazioni di Glitare. Partiamo da un presupposto importante, il mercato invernale, ai miei tempi si diceva mercato di riparazione, perché le squadre che avevano dei problemi a gennaio erano costrette così a correre ai ripari. Il problema qual è? È che il mercato di gennaio è quello più caro, perché i grandi giocatori una squadra non se ne priva a metà campionato, a meno che non arrivi un'offerta folle, per cui se ti serve un giocatore lo paghi molto di più e quindi i prezzi sono altissimi e onestamente comprare un giocatore tanto per comprarlo non vale la pena, non aiuta niente. Ecco, io non dico che la Lazio non avrebbe bisogno di un innesto, secondo me la situazione Marusic è preoccupante. A destra la Lazio al momento c'ha solo Lazzari che sta facendo il tour de force, non può ovviamente andare avanti a lungo questa situazione, Marusic deve tornare, deve tornare contro Udinese, non è tornato, anche se tornerà domenica sabato contro Juventus c'è sempre l'incognita perché siamo a dicembre e Marusic è stato già fuori almeno due volte per infortunio, due lunghi stop per infortunio e questo è un problema, stessa cosa a sinistra, insomma Lukaku sembra di nuovo fuori, Johnny non mi sta convincendo, non si può andare avanti un campionato con Lulic, ma la domanda è ok e allora chi prendi e soprattutto a che prezzi lo prendi? Perché è facile dire eh serve un vice Lazzari, ok ma quanto ti costa un vice Lazzari? Il problema è sempre lo stesso ragazzi, il problema qual è? È che la Lazio non investe sul futuro, vi spiego meglio. Io compro, investo 20.000 euro in azioni Apple perché spero che fra sei mesi, un anno, il valore delle azioni Apple cresca e io ci guadagni che ne so, 2.000, 3.000 euro. La Lazio non investe su se stesso, perché non investe su se stesso? Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato è globale, la Lazio, i profitti della Lazio sono bassi, se voi prendete la Roma per esempio, i profitti della Roma sono maggiori, senza andare a guardare a Juve che è un grande club eccetera, ma anche i profitti della Roma sono superiori alla Lazio, nonostante la Roma negli ultimi 11 anni non abbia vinto niente, però la Roma promuove il brand, no? Ha gli account inglese, adesso ha lanciato anche quello giapponese, magari sta facendo anche troppo perché le spese sono eccessive, però intanto la Roma ha Emirates come sponsor, la Lazio non ha nessuno e sono soldi che poi alla fine ti permettono di fare il passo più là, no? La Lazio deve stare attenta nel bilancio, nella campagna acquisti perché non può spendere tantissimo, la Roma ha buttato soldi per Pastore, per Schick eccetera, perché ha dei profitti più importanti rispetto alla Lazio, la Lazio invece non può mai andare a fare il colpaccio perché non può permetterselo per il bilancio e questo è il vero problema, perché a gennaio la Lazio non può spendere tanto, come non può farlo all'estate? Perché i ricavi della Lazio sono bassi, non sono da grande squadra ancora e il problema è che vediamo che la Lazio non sta investendo sul futuro, non sta cercando di aprirsi all'estero per finalmente avere uno sponsor mondiale come può essere Emirates, Samsung eccetera eccetera e questo è il problema, comprare un giocatore tipo Romolo, tanto per fare un esempio, abbiamo visto lo scorso anno non è cambiato niente con Romolo, è un giocatore che ti dà poco, non ti serve Romolo per andare in Champions League, ti serve un giocatore dello stesso livello di Lazzari e la Lazio ovviamente non se lo può permettere al momento un giocatore del genere, per questo la Lazio non fa acquisti e per questo sentiamo spesso tale dire, eh questa squadra è difficilmente migliorabile, è certo con il budget della Lazio questa squadra è difficilmente migliorabile, perché per migliorare questa squadra deve andare a prendere un giocatore che per esempio possa mettere in competizione Lazzari, non un Marusic, deve andare a spendere altri 20 milioni di euro e la Lazio non se lo può permettere, deve andare magari a prendere un vice immobile serio, forte e la Lazio a questo momento non se lo può permettere, per questo questa squadra è difficilmente migliorabile, perché con il budget a disposizione della Lazio questa squadra difficilmente può essere migliorata, questo secondo me è il massimo che la Lazio può ottenere con il budget di Claudio Lotito, per questo serve uno sponsor importante, per questo bisogna crescere, ma crescere dal punto di vista dei ricavi, dei profitti, perché con questo livello la Lazio e questa non può comprare giocatori più forti, perché non se lo può permettere e questo è il grande problema, per questo la Lazio deve cercare di andare in Champions League, perché arrivando in Champions League hai entrate molto maggiori, riesci a metterti in mostra in Europa e magari riesci a prendere uno sponsor importante che consente alla Lazio di poter competere l'estate con i top club e questo è il problema, non è che Tare non vuole migliorare la squadra, è che Tare semplicemente non può perché non ha le risorse e voi che ne dite? Scrivetevi i commenti qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale e se non l'avete fatto iscrivetevi subito al canale Telegram, ciao alla prossima